Il messaggio da far pervenire alla cittadinanza è che Pescara è assolutamente una città sicura, tranquilla, non ci sono allerte terrorismo. È chiaro che laddove l'allerta aumenta a livello nazionale anche la prefettura locale si mette in moto. Per questo dopo l'ordinanza di Minniti c'è stato un tavolo dell'ordine pubblico e della sicurezza che si è svolto sabato mattina con tutte quante le forze dell'ordine. Ci sono state rivolte delle raccomandazioni al comune di Pescara come tutti gli altri comuni della provincia e noi assolutamente intendiamo non disattendere queste raccomandazioni che vanno nell'ordine e nella maggiore sicurezza della nostra cittadinanza. È per questo che interverremo laddove ci sono delle manifestazioni pubbliche ma questo già lo facevamo, tant'è vero che chi legge le nostre ordinanze già sa che ci sono dei blocchi alla circolazione e lo faremo anche nei luoghi maggiormente affollati di Pescara. Parliamo in particolare della nostra riviera e valutiamo questa mattina in una riunione che terremo proprio adesso anche la possibilità di maggiori blocchi laddove ci sono delle ZTL dove ci sono insomma i luoghi di passeggio della nostra cittadinanza. Ovviamente prevenzione, misure di sicurezza rafforzate però vogliamo anche lanciare un messaggio alla cittadinanza che non è questa una città ovviamente in allarme più di altre. Non c'è nessun allarme particolare che riguardi Pescara, anzi siamo convinti che l'allarme sia inferiore rispetto a quelle che riguarda le città più importanti della nostra Italia. Quindi massima tranquillità, una città che deve continuare a divertirsi, a vivere, anzi il divertimento pescarese quest'estate è stato particolarmente apprezzato. Siamo convinti che non bisogna limitare nulla ma garantire maggiore sicurezza.